Sagome bianche nella notte nera, prima una, poi due, all'apparenza agricoltori impegnati in una coltura, ma l'orario insolito e le movenze impacciate suscitano qualche dubbio negli occhi esperti che scrutano la scena dall'alto. Sospetti fondati, visto che in mezzo a quel campo di mais crescono anche 115 piante di marijuana, coltivate con dedizione dai due uomini. Sono suocero e genero, alla luce del sole l'uno pensionato e l'altro camionista, ma il calar delle tenebre entrambi i produttori di droga in un podere di grano turco in via Savionare a Castelfranco Veneto, scoperto dai carabinieri. Hanno realizzato una importante piantagione di cannabis che coltivavano con particolare cura, promvedendo ad innaffiarla. L'anziano e il giovane sono stati arrestati e ammessi ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La piantagione proibita è stata individuata attraverso minuziose ricognizioni aeree. Grazie anche all'ausilio del personale dell'erinucleo di Treviso, dei carabinieri di Treviso, abbiamo individuato anche questa piantagione. Fondamentale è stato l'impiego di una speciale telecamera capace di identificare i vari tipi di pianta grazie all'utilizzo di particolari filtri in grado di distinguere le diverse gradazioni di verde. Molto più rudimentale invece è il tentativo di reazione alle manette opposto da uno degli indagati, sorpreso a bagnare la piantagione. Ha rivolto il getto dell'acqua verso i militari innaffiandoli dalla testa ai piedi.